Musica Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio del Run and Gun Oggi un altro Run and Gun moddato ragazzi Anche questo è epico E guardate ragazzi c'è praticamente un'astronave Con tutti i birilli e le pareti dell'altra volta E' qualcosa di veramente epico ragazzi Quindi ragazzi direi di partire subito con il video E ovviamente raggiungiamo i 100 like E quindi ci vediamo dentro la partita Ok ragazzi direi di partire subito E sperando che non ci sono gente moddata Madonna che casino l'astronave L'astronave ragazzi minchia E ragazzi sperando di fare un buon punteggio ovviamente Vediamo questo camper E ti ho fregato Ti ho fregato Ragazzi ma perché si nascondono tutti No vabbè addio sono in una sparatoria Vai Il casino ragazzi Questo camper Guardatelo No un altro che parla Che nervi Oh non muore Christopher veramente Ragazzi si continua La gente ci spawna ai lati proprio Vedetevi tutti Tutti avanti Qua c'era qualcuno Innanzitutto ci allontaniamo alla visuale ragazzi Perché Oh Sì vabbè l'ho sparato io Vabbè Madonna no non avevo visto questo Minchia no è allato Madonna ragazzi Lo sterminio Lo sterminio Ma io dico ma perché ci deve capitare No se ci prende È chiaro io stavo sparando a uno Poi ci esce l'altro Ok Perfetto No ma perfetto Guarda ci è spawnato a lato proprio ragazzi A lato Ma che cristo di spawn ci hanno Dico io Vai Continuiamo Allora quello che sta al secondo posto È smoke Che non so Vedete raga ma perché camperano Ma perché camperate Minchia che nervi Eh questo qua è quello che sta al secondo posto Ma non mi deve assolutamente raggiungere Ce la metterò tutta per non farmi raggiungere ragazzi Ecco Ci è spawnato dietro E ti ho chillato di brutto Eh ma perché camperate Complimenti Camperone Vedi ragazzi Manca un colpo gli ho dato No non devi camperare Hai capito male Bello Hai capito male Adesso ci spawnerà qualcuno Ora vi dovete spiegare perché ha sparato a sinistra Boh Ok ragazzi continuiamo Ecco ci spawna Ci spawna da me Da dietro Eh madonna Minchia ragazzi Io con due capriole vi ho steso tutti e due Cioè è impressionante Impressionante Ovviamente avete dei microfoni di ottima qualità Di ottima qualità Oh Ecco il camper Allora ragazzi lui mi prende perché si mette nascosto appena mi vede esce Non viene come Tipo come faccio io Che li vado sotto Lo sparo No ma che cosa Ecco ragazzi si è già No è capriola due ore e mezza Per fare una capriola Oh muri Ho tre colpi in testa Tre colpi in testa Mo ti frego da qua Ok Vai ragazzi continuiamo Mo ci spawnerà Eccolo Allora Mo quitta Sta fermo ragazzi Ha quittato ragazzi Ha già quittato Ma è incredibile Cioè ragazzi Hanno quittato due persone Ragazzi Quittano tutti No 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 Mi mira Cristo Olè Fregato di brutto Cioè ragazzi Ragazzi Ha quittato Già Cioè hanno quittato tutti Eravamo quattro Già due sei andati Ma dai Ma perché Sperando che questo Non se ne esce Così Facciamo Ok Ci siamo sparati insieme Questa volta Ci siamo sparati insieme Preso Poi mi devono capire Sempre i nabbi contro Mai persone furti Perché le persone furti Che adesso trovo io Sono tutti moddati Prima ragazzi Stavo Non so cosa stai dicendo Sinceramente Perché comunque Hai un microfono Di bassissima qualità Ma che vuoi Che cosa vuoi Che cacchio vuoi Sto facendo un semplice Ditmatch Cioè ragazzi Io lucido Dice Alex Alex Che cosa Non so se mi conosci Sinceramente Non lo so Adesso ci spanerà O adesso A sinistra Beh Cioè ragazzi Ma che cristo Di una pagina è questa Cioè io faccio I Ditmatch Faccio i Ditmatch Mi devono capire Sta gente contro Qua Ma che cacchio Veramente Vedetelo ragazzi Ah finalmente Mi è preso in testa Finalmente Grido Che mi è preso in testa Non lo so Dove stai? Ciao Perché due colpi in testa Per ammazzarlo Avete visto ragazzi Due colpi in testa Per Ammazzarlo Dai Dove stai Ciccio bello Madonna Ma dove cacchio Ma che sparo Ma cosa stai sparando Ragazzi Non mi fa la capricola Avete visto che ha saltato Avete visto che ha saltato Non so perché Non me l'ha fatto la capricola Stavo cliccando Quadrato A dismisura Proprio Cioè ragazzi Non capisco dove cacchio Sparava quello O vede altre persone Qua dentro Vedete ragazzi Come camper Ti ho preso in un colpo in testa Proprio liscio liscio Mi sa che questo quitta Pure questo Cioè Mi sa che quitta Pure questo Allora Meno male che non è il caschetto Madonna E minti Hai la mira Veramente Hai la mira Non lo so Guarda Lasciamo stare Lasciamo stare No Incredibile Cioè O non sa fare la capricola Questo E meno male che stava Al secondo posto Oppure Non li mira Cioè ragazzi Incredibile Cioè Veramente Non mi riesce a uccidere E poi Sto pure sbagliando io Perché faccio la capricola Prima che la La faccio prima di lui No Ma che Cristo è Poi tre colpi in testa Ogni tanto O il lag Non lo so Vorrei vita Perché sto morendo male Ma mi prende subito Questo Ecco Vuol dire che mi prende Ma vabbè ragazzi Non riesce A Mi sta insultando Sto dicendo Bravo Bravo Va bene Quisto che adesso Non si gioca più Per divertimento Ma si gioca Così Se mori Subito Insulti Le persone Io Non voglio prendere Il bull shark Ok Perfetto Ho preso un po' di vita E Continuiamo Ma mi sponerà A qualche lato Madonna Ho fatto il giro Della visuale Per vedere Se me lo metteva Nel mirino Incredibile ragazzi Cioè questo Non Dopo zero Un abbo Della Un abbo assoluto Ma io dico Pure che entrate Nei run and gun Se non sapete giocare Scusate Mo sta scappando Ho perso sangue Ma dove cacchio Mi spari Cioè ragazzi Guardate il sangue Guardate Il sangue Ragazzi Oh no no Sto mirando io A capricacchio Proprio Facciamo il giretto Oh Non lo so Se tu te ne vuoi andare nel muro Mi avvisi Cioè se ti piace andare Andare contro il muro nero Mi avvisi Che magari facciamo una lezione Insieme Per cui andare nel muro Qui su Una capricola Non me la fai Però Ovviamente Ti sei camperato Cioè ragazzi Non ho vita Non ho vita Ragazzi Non ho vita Ragazzi Oddio Dove stai? Non ci sei Da dietro Ragazzi Veramente Un run and gun Strano Mi sono capitati Tutti i nabbi Poi Il kill Si lamentano Non è per divertimento Io li faccio Sti run and gun Per allenarmi Sinceramente Così Normale Ho fatto 40 kill Ragazzi A parte gli altri Che ho ammazzato prima Quindi ragazzi Direi per questo video È tutto Lasciate un like A questo video Commentate Ditemi se Volete Altri Run and gun Moddati Ragazzi Perché comunque Vi sono Mi stanno piacendo molto Quindi Per questo video È tutto Commentate Con dei nuovi consigli Magari Per migliorare Eccetera E Lasciate tantissimi like Crediamo a 100 like Anche su questo video Seguitemi su facebook E anche su instagram Per questo video è tutto Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti